Ciao, bentornati! Nuovo video calendario dell'avvento, ne sto facendo uno dietro l'altro, questi sono i prototipi, quindi quelli iniziali e poi inizierà la vera e propria produzione. Vi ho fatto già vedere in video quello degli Street Kids, quello dei BTS, sto lavorando a quello degli ETs, ma oggi vi faccio vedere quello delle Blackpink. Qui c'è tutto il contenuto del calendario, la cardboard che conterà le bustine e tutte le bustine. Adesso lo riempiamo insieme, vi faccio vedere che cosa conterrà, perché molto spesso mi viene fatta questa domanda, ma cosa contiene il calendario dell'avvento che vendi? Vi ricordo anche che lo trovate nello shop, in descrizione c'è tutto quanto, altrimenti mi contattate qui o sui altri social e mi chiedete tutto. Grazie anche per il vostro like e se mi seguite mi farete un grandissimo favore, anche perché saprete sempre per primi quando escono queste cose, perché io prima lo pubblico, poi lo metto in vendita e quindi siete tra i primi a scoprire le novità. Vi faccio vedere una panoramica di quello che c'è dentro il calendario e poi andiamo a riempire insieme le bustine. Allora partiamo dalla cardboard che è questa, è un cartoncino lavorato con, adesso vedrete qua ci sono delle mollettine ancora, vedete queste fettucce? Servono per bloccare poi le photocard e altre cosine che si possono appendere o con le pinzettine, con le mollette da bucato piccoline oppure con le attach. Qui ci andrà un foro, anzi lo facciamo subito, perché così questo cardboard potrà essere attaccato al muro con un chiodino. Allora andiamo in mezzo, ci sto, si, voilà. Quindi adesso potrete attaccarla con un chiodino oppure con altri metodi vostri, comunque sia, questo è il primo piano, questo è il secondo e qui c'è il terzo. Qui sotto vedete ci sono ancora le mollettine, adesso le posso staccare perché si è asciugata la colla. Ho utilizzato delle pagine ufficiali di un Aldi, un photobook delle Blackpink, quindi è proprio tematizzato, lo sto facendo con tutti quanti i gruppi. Prendo pagine dai photobook o da altre strutture dedicate a loro e ci faccio queste piccole taschine finali. Qui ci potete infilare appunto cartoncini, vedete? È proprio un porta oggetti, ovviamente foglietti o altre cose. E qui si può sempre appendere il tutto. Le bustine sono queste, ho curato la grafica, me le sono stampate tutte quante e le ho anche incollate. Ci vuole un po' di tempo a fare questo calendario, bisogna dirlo. Però il risultato mi piace e soprattutto quando piace a voi che le aprite la cosa mi fa ancora più piacere. Qui ci sono delle photocard fan made, quindi sono realizzate in carta fotografica da me e tutte quante hanno la loro piccola sleeve. Eccole qua, c'è sempre una photocard per ogni membro di un gruppo, più se i gruppi sono composti da pochi membri c'è anche quella di gruppo. Le spillette, ce ne sono almeno cinque, in questo caso se contate ne trovate sei. Perché ho voluto farne una per membro, perché ho trovato questa linea di foto che mi piaceva tanto, in cui le Blackpink hanno i loro peluscini. Eccoli, vedete? Hanno tutti quanti i loro peluscini. Tra l'altro quelli delle Blackpink sono deliziosi. Forse conoscete gli Skezoo, i BT21, ma ormai tutti i gruppi hanno i loro pet, le loro mascottine. Più ho fatto anche due, una col nome del gruppo e una col nome del fandom, perché appunto le Blink sono le persone che sono fan delle Blackpink. Molti di voi lo sapranno, magari qualcuno lo sente per la prima volta. Ci saranno sempre tre bustine di decorazione. Le decorazioni prevedono degli sticker e delle perline o altre cose. Qui c'è uno sticker con scritto Blackpink, dei cristallini, delle mezze perle adesive e degli sticker coreani, tutti luccicosi. In quest'altra bustina andrà così, quindi Blink, perline rosa e sirene. E di qua perline oro, questo stickerino delle Blackpink, questi stickerini trasparenti e questi super olografici. Dove si vanno ad attaccare questi sticker? Sicuramente ci si può decorare la cardboard sui bordi, no? Magari da queste parti, bordo a bordo, uno può decorarla come più vuole. Ma sono destinati a questo. Questo qui è un top loader, ossia la custodia rigida per mettere dentro delle photocard. Ebbene, uno ci può mettere dentro la propria photocard, ok? Ma lo può anche tutto decorare con gli stickerini tutti intorno per creare proprio una cosa super decorata. Se notate, questi qui hanno anche un piccolo foro in alto. Potete metterci un moschettone, un portachiavi e potete quindi portarlo legato alla borsa. Quindi diventa un cardholder a tutti gli effetti. Andiamo avanti. C'è una cosa che quest'anno è una novità nei miei calendari. Sono molto orgogliosa perché se avete visto i miei video precedenti sapete che io ho l'incisore laser. Ho preso un incisore laser e quindi vi ho fatto i ciondolini di ogni membro del gruppo incisi a laser. Quindi troverete un ciondolino con scritto Lisa, uno con scritto Jenny, uno con scritto Gesù e uno con scritto Rosé. Questi sono a cuoricino con questa virgoletta da una parte, ma potrebbero essere con un'altra forma di cuoricino, potrebbero essere tondi, potrebbero avere delle altre forme carine. Per chi hanno il moschettone? Uno perché potete appenderli dove vi pare. In questo modo li appendete ovunque vogliate. Volendoli potete attaccare ai braccialetti, volendoli potete attaccare a un cordino, ma nel calendario si trova anche questa collana che è tutta in acciaio, quindi non si rovina, non crea allergia, è un ottimo materiale. Vedete queste palline? Servono per fermare i moschettoni. Quindi andando ad aggrappare i ciondolini, rimarranno spaziati in questo modo. Così, così, questo qua e quest'altro da quest'altra parte. Quindi questa collana si può portare in due modi, o con la propria bias, quindi mettendo un solo ciondolino al centro e cambiandolo ogni volta che uno ha voglia, oppure mettendole tutte e quattro e portando tutto il gruppo al collo. Spero che vi piaccia, a me come idea piace parecchio. C'è un'altra cosa piuttosto creativa, quindi quest'anno il calendario è abbastanza interattivo perché appunto il top loader va decorato, la cardboard va decorata, ci sta pure questo. Questo sacchettino che vedete contiene tutto l'occorrente per creare un strap phone, ossia quei laccetti per i cellulari che vanno di moda particolarmente in questo periodo. Quindi, vedete, questo è l'laccettino che va infilato nella cover. E qui ci sono questo cordino doppio, fatto così. Ho già cauterizzato, quindi ho già bruciato le estremità, quindi le perline entrano con molta facilità, non è difficile da fare. All'interno ci stanno un sacco di perline colorate, di varie misure, quindi rendono la cosa molto più carina. E ci sono delle letterine. In questa bustina troverete Blink, ma potrei mettere il nome di uno dei membri. A volte mi chiedono dei calendari tematizzati, mi scrivono il bias nei commenti, e io in quel caso magari metto le letterine del membro preferito. Altrimenti si trova questo con tutto il gruppo, oppure con tutto il fandom. E poi passiamo a una postcard, in questo caso questa qui, che sarà sempre all'interno del calendario, questa è fatta su carta fotografica, ma il pezzo finale, quindi il 24, l'ultimo giorno, si apre un'inclusione ufficiale. Le cambio sempre, in questo caso c'è una postcard di The Album, che è uno degli album più belli delle Blackpink, ma potrebbe esserci una fotocard oppure un poster. Quindi questa è casuale, non vi posso dire tutto, anche perché i materiali originali sono difficili da reperire e sono piuttosto costosi, quindi non ne posso avere 20, 30, tutti uguali, non sarebbe possibile. Quindi li alterno in base agli album che vengono aperti appunto destinati ai calendari. Vi faccio vedere chi c'è. Siete curiosi? In questo caso è uscita Gesù, ma potrebbe uscire Lisa, Jenny, potrebbe essere Rosè, potrebbe esserci chiunque. E adesso mi devo insacchettare tutto quanto e inserirlo nella cardboard. e inserirlo nella moda. Grazie a tutti.